E' costretto ad andare con il corpo all'indietro, Facchetti, ha dovuto appoggiare il pallone praticamente a Benassi. Nessun problema per il Perugia, ora Bondi, cerca Paponi, ancora Bondi, supera l'avversario, è bella la ripartenza del Perugia, ancora Bondi, sul sinistro, ancora Bondi. Attenzione alla sua conclusione, c'è una devazione ed è gol! Perugia in vantaggio, Perugia in vantaggio, gol di Bondi al ventunesimo, splendida la ripartenza della scuola di Pagliari. Poi un po' fortunato nella conclusione Bondi, perché ha trovato la deviazione decisiva di un avversario, ma il gol è meritato perché il Perugia ha dominato questi primi 20 minuti di gioco. Una splendida ripartenza dopo un'azione non conclusa felicemente dal Como, Bondi praticamente ha ripartito in mezzo, ha scambiato il pallone con due avversari, ha visto lo specchio della porta, ha tentato il sinistro, c'è stata una deviazione che lo ha aiutato. Il pallone si è impennato, ha scavalcato mal a testa e Perugia in vantaggio al ventunesimo minuto, grazie al primo gol con la maglia del Perugia di Renato Rafael Bondi, che si conferma il miglior acquisto di questa stagione, un giocatore che riesce davvero a fare la differenza in ogni zona del campo, incisivo e decisivo anche in zona gol.